speriamo che non vada via la luce come ieri tra parentesi perché ieri a Milano cioè in questa zona è saltato tutto quindi poi ci ho messo un'ora a ripristinare connessione e altro mi è sembrato di essere tornati quando ero ragazzino in Calabria però anche qua succede intanto allora benvenuti tutti grazie per essere qua sarà una cosa diciamo abbastanza familiare, molti di voi li conosco alcuni no Nicola non so che Nicola è potrei conoscerlo ma non è detto e Adriano e Nausicaa credo di no, ciao Claudia invece sì ok allora la mia idea e visto che siamo anche pochi possiamo sicuramente lavorare in questi termini era di raccontarvi un po' qualcosa di unfix, qualcosa in più di quello come avete magari avete sentito e anche fare uno scambio di opinioni rispetto a quello che che ne pensate se qualcuno di voi ha già magari qualche idea o ci ha messo o ci ha messo la testa la prima cosa che che vi chiedo è che cosa che cosa vi ha portato qui cioè che tipo di interesse c'è nei confronti di questo di questo frame da parte vostra vero picchiato da Jürgen che ho detto frame però vabbè che è che vuole iniziare A me incuriosisce l'approccio che sembra essere diverso questo sono le tematiche nel senso che mi sembra che almeno l'ho letto in maniera superficiale dalle parole di Jürgen quindi però da come lo racconta sembra che abbia concepito qualcosa che offre una prospettiva nuova ecco non è un costruito sopra altri frame usiamo queste parole che ti dà fastidio ma qualcosa di nuovo ecco ho avuto questa impressione sono qua per capire se è un'impressione erronea oppure ok grazie qualcun altro? vado io ma brevissimamente a parte che il mio mestiere diciamo occupano di queste cose ma sempre interessante vedere quando emergono dei nuovi metamodelli in questo campo perché no Emanuele noi ne abbiamo parlato anche spesso sono sempre i principi che sono troppo astratti per farci qualunque cosa sempre belli ma troppo astratti poi ci sono le pratiche che invece sono troppo verticali per non andare a infilarsi in cunicoli di tipo organizzativo sulla catena del valore e quindi quando c'è qualcosa che sta in mezzo bisogna sempre tenerlo tenerlo d'occhio e può sempre portare delle prospettive così generative assolutamente due sensi grazie ciao Marco non so qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? la faccio arrivo ciao a tutti ciao la domanda Marco era che cosa ti ha portato qui oggi non solo per te ma anche per gli altri ovviamente e anche per me l'approccio mi interessa molto per la sua diversità pure evolvendo da qualcosa perché si va oltre l'agile oltre l'in da capire il come poi mettere a terra questi principi mi piace anche il fatto che sia ancora un qualcosa di aperto come dicevi tu di cui si sta discutendo e su cui ci si può confrontare che scompone molte pratiche che tutti noi conosciamo in tanti piccoli pezzettini per poi farci qualcos'altro e quindi è bello confrontarsi su cosa perché credo che le applicazioni siano veramente diverse e svariate anche su su diversi ambiti ok grazie Silvia e va bene allora io vi condivido lo schermo adesso quindi userò una fantastica board di Miro che terrò qua disattiva solamente voce disattiviamo dovreste vedere lo schermo ditemi se è così ok allora uno dei uno dei motivi diciamo che diciamo ce ne sono ci sono diverse narrazioni sulla parte di di come è nato come è nato Unfix allora questa mi piace ovviamente perché come per Giorgio sa a me piace correre ho fatto anche due maratone e diciamo qui cosa vedete vedete uno dei libri su come come preparare diciamo una maratona o comunque fare training per diciamo correre meglio e più a lungo in questo caso parla di tre giorni di di corsa e due giorni di course training e diciamo due giorni di riposo qui ce n'è un altro che dice che il lungo più lungo da fare dovrebbe essere di 26 chilometri nel mio caso per esempio io l'ho fatto di 35 quindi vedete che già c'è una certa diversità e qui ancora c'è un libro dove diciamo ci sono delle formule che diciamo dicono come potersi preparare per una per una maratona quindi e se voi provate a cercare ammesso che questo sia uno dei vostri obiettivi provate a cercare online trovate sicuramente tante cose tanti articoli magari delle tabelle cosiddette che è in base alla vostra velocità di partenza quanto riuscite a correre in termini di distanza vi dicono quale deve essere la progressione da mettere in atto e però anche queste cose qui potete immaginare sono tutte diciamo modalità che sono predefinite cioè chi ha fatto magari una maratona chi poi è diventato trainer e ha deciso di diciamo raccontare qual era il suo modo l'ha fatto diventare un modello che molte persone hanno iniziato ad applicarlo quindi potete vedere una certa similitudine tra i frame che fanno parte non solo del mondo agile ma nel mondo agile diciamo sono abbastanza insomma frequenti utilizzati e questo questo approccio che come molti magari hanno sperimentato non è che funzioni così bene perché poi alla fine diciamo se fosse così semplice comprarsi il libro e iniziare a seguirlo per poi diciamo correre la maratona probabilmente tutti potremmo correrla questo ritengo che sia vero e tutti la correremmo anche molto bene se poi andiamo a guardare diciamo chi l'ha corsa molto molto bene quindi qui vedete in 1,59 quindi sotto la barriera delle due e vedete che metto anche Michele e quello che succede è che diciamo questa persona che non pronuncio per facilità questa è la sua modalità con cui con cui corre e soprattutto potete vedere questa ultima parte che è quella più più importante le ultime due Reflection with a Daily Notebook è ascoltare il corpo e non avere dei piani quindi di fatto come dire lui si è costruito la sua modalità cercando di capire che cosa succedeva al suo corpo durante durante gli allenamenti e quindi quello che succede è che chi è un professionista non seguono dei metodi particolari ma generano si creano il loro partendo sicuramente dallo stato in cui si trovano quindi dalla forma dalle caratteristiche fisiche che hanno perché c'è chi ha diciamo una macchina che va più veloce chi ha una macchina che va più lenta ma più lontano e soprattutto mettono in atto quelle che noi insomma potremmo chiamare retrospettive cioè iniziano a capire che cosa sta succedendo e quali cambiando qualcosa che cosa succede quindi se faccio un allenamento più lungo se faccio le ripetute se faccio diverse cose quali sono le cose che succede questo se se vogliamo se ci pensiamo si può diciamo vale per tantissime cose le diete per esempio quindi che cosa che cosa posso utilizzare per perdere peso per essere più in forma mettiamola in termini positivi e anche se vogliamo un altro ambito a me caro per esempio nella vela cioè nella vela non ci sono regole cioè poi si possono leggere tanti libri su come regolare le vele ma poi quello che bisogna fare è salire su quella specifica barca provare registrare tutto quello che succede e capire che cosa sta succedendo guardando banalmente la velocità che è la cosa più semplice poi ci sono altri parametri ma non entrerei nel dettaglio se no vi parlo di vela e non di di unfix allora questo qui è diciamo potrebbe essere considerato il punto di partenza cioè io che faccio la gel coach di solito mi trovo a diciamo facilitare dei team partendo da un dato di fatto cioè l'azienda mi chiama e mi dice abbiamo deciso di implementare Scrum abbiamo deciso di implementare Safe abbiamo deciso di implementare Kanban insomma cose di questo tipo e quindi si parte dal concetto che c'è qualcosa che è già stata decisa cioè che tipo di approccio utilizzare e il mio lavoro diventa quello di aiutare i team a fare nel miglior modo possibile nell'applicare nel miglior modo possibile quel frame in alcuni casi ci sono margini di diciamo di modifiche per poterlo modificare in altri molto pochi anzi l'obiettivo principale è quello di essere il più possibile aderente al frame in un'azienda per esempio con cui ho lavorato che non faceva sviluppo software aveva creato dei team cross funzionali correttamente insomma eccetera loro però avevano per questioni loro deciso e andava bene così anche secondo me di creare questi team dove le persone erano impegnate più o meno per il 20-30% del tempo perché poi lavoravano su altre cose e su altri team a quel punto vi rendete conto diciamo facilmente che fare un daily tutti i giorni quindi quella riunione che in Scrum serve per pianificare diciamo la giornata serve al tempo pianificare la giornata e non aveva molto senso perché se io lavoro al 20% cioè cosa avrò fatto mai tra un giorno e l'altro visto che tutto sommato il mio impegno è di un giorno a settimana se lo volessi concentrare quindi lì ha più senso che io settimanalmente provi a verificare diciamo quello a pianificare a verificare dove mi trovo rispetto all'obiettivo del mio dello sprint in corso quindi in questo caso io non me la sono sentita di dirgli no guardate che Scrum dice una cosa specifica e dovete fare così perché per me non aveva molto senso quindi diciamo quando ho iniziato a sentire parlare di di Unfix mi ha colpito molto quindi come ad alcuni di voi hanno detto il fatto di diciamo un po' smontare alcuni tabù alcuni totem diciamo che nel mondo agile sono assolutamente diciamo definiti e difficilmente diciamo eliminabili uno di questi è sicuramente il fatto che il frame o lo applichi così com'è oppure non stai facendo non stai utilizzando quel frame il che è è vero ma quello raggiungerei e non c'è niente di male perché se aggiungo questa parte va benissimo l'altra cosa è per esempio continuarsi ad ostinare a voler diciamo mettere in atto o chiedere alle aziende di mettere in atto o di provare a farlo alcune cose che i contesti non permettono e che l'altra cosa che mi aveva colpito proprio partecipando a uno dei primi diciamo meet up di Jürgen era quello sulla sui team su come devono lavorare i team per chi di voi fa il mio stesso lavoro sa che noi quello che diciamo alle aziende è di creare team cross funzionali e che dovrebbero essere diciamo dedicati full time su un progetto sappiamo tutti che il multitasking è comunque dispersivo e quindi quello è un tema che sicuramente può aver senso ridurre quindi se una persona lavora su 5, 6, 7 progetti ovviamente non capirà più nulla di dove si trova quando passa da un progetto all'altro questo però è un aspetto insistere sul fatto che i team devono essere dedicati full time su un solo progetto probabilmente è qualcosa che io non sono mai riuscito a vedere applicare se non per alcuni team alcuni componenti del team magari nel team di sviluppo alcuni sviluppatori sono sicuramente dedicati full time solo a quel progetto chi fa i test anche se non dovrebbero essere diciamo persone specifiche ma così succede quasi sempre magari sono su più su più team e diciamo altri ruoli sono diciamo un po' su diversi progetti chi si opera di UX per esempio o altri esempi che sicuramente vi verranno in mente allora questa è un'altra è un'altra di quelle cose che forse può aver senso che venga messa a terra in modalità diverse che può essere anche quella di avere dei team completamente dedicati ma non solo e tra parentesi noi che facciamo questo lavoro non facciamo non siamo diciamo full time dedicati a un solo progetto anzi diciamo siamo sicuramente più multitasking di quello che vorremmo da un lato ma soprattutto di quello che suggeriamo di fare ai nostri clienti e quindi questa è un'altra di quelle considerazioni che come dire mi ha un po' illuminato e mi ha fatto immaginare che ci potesse essere una modalità diversa la modalità che diciamo suggerisce Unfix è un po' lo dice il nome un po' l'avete visto letto magari per chi di voi si è un po' documentato è proprio quella di prendere in considerazione una serie di dimensioni che fanno parte diciamo dell'organizzazione dell'azienda o del team o del progetto a secondo di quello che sto prendendo in considerazione e diciamo metterle sul tavolo per poter decidere in base alle proprie esigenze questo se vogliamo in sintesi è proprio l'approccio che utilizza Unfix magari interrompetemi anzi interrompo la condivisione un attimo volevo magari fermarmi e chiedervi cosa ne pensate che cosa vi ha ciao Michele intanto ciao a tutti c'è qualche considerazione che volete fare l'ultimo principio che l'ultima frase che hai detto mi sembra che ci sia il core di Unfix ma potresti ripetere per favore cioè qual è il principio core su cui si basa questo approccio che hai appena detto sì dal mio punto di vista è questo cioè il fatto di in base a quello che prendo in considerazione cioè l'azienda il team il progetto quindi il sistema che sto considerando ho delle dimensioni delle caratteristiche che rispetto a un a un approccio dove sono già definite safe per esempio è l'estremo diciamo dove c'è tutto definito ma scrama anche se vogliamo alcune cose non le definisce perché non le considera in scopo dal suo punto di vista ma tutto quello che c'è dentro tra il planning e la retrospettiva è diciamo in maniera diciamo rigidamente definita queste dimensioni le posso rimettere sul tavolo e deciderle in base al mio contesto in base alle mie esigenze in base alla maturità del del business in base alla mia esperienza in base anche alle risorse che ho perché poi di fatto per esempio quel cliente che vi dicevo prima che aveva dedicato le persone più o meno al 20% tra uno squad e l'altro perché aveva deciso di usare un po' un approccio chiamiamolo Spotify era perché non avevano la possibilità di gestire risorse dedicate full time su un solo progetto perché non ne avevano tante che questa è una delle cose che quando lavorate dai clienti se fate il lavoro come il mio cioè consulenti vi sentirete dire sempre cioè è un assioma praticamente quindi se non esistono situazioni in cui io non ho questa questa esigenza e non ho questo vincolo allora forse ha senso piuttosto che io contrastarlo questo vincolo il più possibile diciamo creando anche frustrazione nel cliente perché continuerò a dirgli che sta sbagliando magari provo a gestire questa modalità nel migliore dei modi cioè prendo questo vincolo e lo inserisco nel mio sistema quindi non più come un vincolo ma come una cosa di cui tenerne conto e questo vale anche per altre cose quindi diciamo l'approccio di Unfix è aver creato una quantità infinita di card questo va bene questo è l'approccio classico di Jürgen quindi ce ne sono circa sono 140 150 card non 140 tipi però complessivamente sono circa 150 card Silvia lo sa perché c'è il numerino sotto quindi alla fine abbiamo visto che ne stiamo facendo altri e con queste card andare un po' a definire quale può essere la modalità di definizione del mio modello da applicare per esempio se prendo in considerazione un team dove ho all'interno del team un coach o una persona che è stata assunta ieri o una persona che andrà in maternità fra tre settimane o qualcuno che si è fatto l'anno sabbatico e rientra dopo voi dite madonna che team diciamo ho spiegato che ho beccato però alla fine diciamo se non uso determinate caratteristiche questo team come lo considererò? fanno tutti parte del team? dirò sì perché li ho assegnati a quel team ok devo prendere una decisione importante tutti hanno la stessa hanno lo stesso diritto di voto il stesso peso del loro voto in termini decisionali se devo decidere come si deve organizzare il team se c'è una persona che partecipa una volta a settimana a quel team perché il suo contributo è strutturato in questo modo forse ha meno senso che io gli chieda a che ora dobbiamo vederci o alcune caratteristiche logistiche per esempio l'organizzazione del mio team quindi una delle cose che viene esplorata per esempio in Unfix perché riguarda i team è per esempio la tipologia del team quindi se sono team liquidi se sono team stabili se sono team dinamici e quindi prendo in considerazione quello che realmente poi trovo se sono team di missione diciamo prende diciamo in considerazione proprio quello che io alla fine trovo nella realtà nel senso se io posso avere un team dove le persone all'interno di quel team cambiano ogni tanto per esempio l'equipaggio di un aereo di un aeroplano quello è un team stabile se vogliamo perché è sempre composto dallo stesso tipo di persone due piloti quattro steward eccetera però le persone cambiano quindi è un team possiamo definirlo dinamico cioè la struttura del team è sempre la stessa ma le persone che partecipano a quel team in un dato momento sono diverse e se io inizio a inserire questo tipo di di variabili nei miei nel mio frame nel mio modello riesco un po' a catturare la complessità che mi trovo nella realtà e quindi sapere che ho un team di un certo tipo e anche decidere come trattarlo invece quello che si dice per esempio nella maggior parte con l'approccio agile che già comunque è un passo avanti per tante cose adesso non butterei via tutto nell'approccio agile ovviamente quello che si dice è che il team deve essere cross funzionale è più possibile stabile non si va oltre invece io posso anche avere un team che in alcune aziende venivano chiamati comitati di crisi per esempio allora quello è un team che ha una missione specifica quindi quel team lì potrebbe essere un team che io so già chi come deve essere composto ma lo diciamo attivo solo quando mi serve quindi so che ci devono essere persone con determinati profili e a quel punto vado a prendere le persone con quei profili che possono essere le stesse oppure altre perché magari quelle specifiche che c'erano l'olta scorsa non sono disponibili e anche questo è un'altra modalità che io posso mettere in atto che tipicamente non viene diciamo tracciata dagli altri frame quindi questo è un esempio sui team perché insomma il team è uno delle componenti fondamentali all'interno delle nostre aziende del lavoro che viene fatto dei progetti e e quindi questo aspetto è uno degli aspetti che mi ha più coinvolto e convinto nella bontà di questo di questo approccio non so cosa ne pensate voi siamo sempre meno quindi la farei diventare proprio una conversazione non so io faccio queste questa considerazione forse perché non sono sono un agilista perché non lo sa dell'ultima ora quindi non sono stato catechizzato con gli assiomi di cui parlavi prima e quindi come dire mi sembra pressoché un discorso di buon senso non ecco non non sento faticoso né abbracciare questa cosa ma perché penso che già la sto perseguendo no adesso mentre parlavi ripensavo a cose ad approccio a cose che dico quando sono in aula sono più o meno tutte in linea con queste e forse il fatto di non appartenere a questo mondo così per certi versi strutturato hai citato safe scrum eccetera eccetera il fatto di non essere nato dentro lì forse è un vantaggio non lo so probabilmente sì perché alla fine diciamo quello che succede come hai detto tu non sei stato catechizzato se tu parli di safe non puoi certo andare a dire che puoi mettere un team che sia temporaneo perché non è previsto non c'è nella bellissima immagine che safe ogni anno rinnova aggiungendo aggiungendo pezzi oppure anche scrum non ti parla di altre tipologie di team non entra neanche tantissimo nello specifico però ti dice che il team deve essere cross funzionale è stabile anche perché se io ho un team stabile da un certo punto di vista ho dei vantaggi perché le persone si conoscono meglio iniziano a lavorare meglio vado se seguo il modello di TAC vado nella fase di performing dopo i vari stadi e quindi alla fine riuscirò ad avere una performance migliore rispetto a un team che inizia e che quindi deve lavorare prima sulla relazione non trascorando il contenuto ma la parte di relazione occuperà molto più tempo che un team diciamo che si conosce da tempo l'altro aspetto interessante è che se voi ci pensate noi l'altra cosa che andiamo a dire è che diciamo una cosa che dovrebbe succedere è eliminare i silos verticali che vengono che sono stati creati in azienda non sono non sono stati fatti perché quello rispondeva a un modello organizzativo che andava a prediligere diciamo l'eccellenza la qualità all'interno dei vari dipartimenti e quindi aumentavo di molto la specializzazione e strutturavo processi e struttura organizzativa in maniera tale che ci fosse una una sovrapposizione di uno a uno e questo da questo punto di vista non c'è nulla di male quello che succede come sappiamo è che ho una diciamo segregazione delle persone che sono all'interno di un silos che si occupano solo di quell'aspetto e quindi un po' si dimenticano del fatto che c'è un'altra parte dell'azienda che gli fornisce delle cose e un'altra parte dell'azienda a cui dovranno fornire delle cose loro sanno solo quello che gli arriva dentro come lo devono trattare per poi diciamo espelle dal loro silos e l'altro aspetto negativo di questo tipo di struttura è che tendenzialmente io vado a creare una struttura che è rigida e quindi fa molta più fatica a cambiare se se devo cambiare qualche cosa processi o altro rispetto al contesto quello che noi andiamo a a suggerire è tipicamente di creare dei team che siano cross funzionali quindi invece di utilizzare la parte verticale come silos ci spostiamo sulla dimensione orizzontale e andiamo a creare quelli che possono essere chiamati diciamo value stream se applico lean eccetera o diciamo organizzazione per prodotto per esempio dove ho tutte le persone che se va bene diciamo contribuiscono a quel prodotto facciamo un esempio vado a creare poi alla fine perché se poi anche questi team devono essere stabili significa che ci saranno sempre le stesse persone dentro quindi ho ribaltato la mia diciamo figura e quindi ho creato dei silos orizzontali perché alla fine le persone che stanno dentro un value stream se io lo considero stabile fino a che non muoiono i membri del team non avranno interazioni con gli altri perché magari ho creato proprio un value stream dove ho messo veramente tutto dentro quello che serve e quindi tendenzialmente non c'è interazione quindi ho anche qui in questo caso creato una segregazione su una dimensione diversa migliore della precedente però sicuramente mi perdo magari dei pezzi in termini di scambio culturale di cross fertilization rispetto a tecniche nuove modalità nuove cultura insomma eccetera quindi l'approccio con alcuni team nel senso che siano stabili probabilmente non sempre per esempio vi faccio vedere questa immagine se io faccio così chissà che succede dovreste vedere perfetto questo è appunto uno degli approcci sempre con delle card come sapete che ha a che fare con la parte dei team quindi io vado a diciamo mettere su queste due dimensioni tra il diciamo la vita del team quindi se sono team di lunga durata o brevi e diciamo la partecipazione del cioè quanto spesso cambiano le persone all'interno del team quindi cambiano raramente o cambiano molto velocemente quindi qui ho i team stabili quindi sono team di lunga vita con persone che rimangono sempre le stesse o team di missione dove ho diciamo un team che ha breve vita ma le persone magari sono sempre le stesse perché viene diciamo attivato quando mi serve come dicevamo prima o un team cosiddetto liquido dove le persone cambiano velocemente e dura molto poco come vita perché magari c'è una cosa specifica da fare in quel momento oppure dei team dinamici dove le persone cambiano diciamo velocemente all'interno ma la struttura del team quindi in quel team rimane lo stesso e questo è per esempio quello che l'esempio facevamo dell'equipaggio di un aereo perché le persone ruotano per i turni riposi insomma eccetera ma il team se vogliamo è sempre lo stesso e noi potremmo avere questo tipo di situazioni in azienda anzi sicuramente ci possono essere perché se io vado a ragionare rispetto ai value stream che sono questi qua questi possono essere team di questo tipo cioè dove io vado a definire una struttura che per esempio per me è quella che serve per lavorare su quella creazione di valore su quel prodotto o quello che ho definito e invece le persone decido che magari non le cambio sempre con una certa velocità però ogni tanto faccio qualche rotazione perché mi può servire per diciamo appunto diffondere cultura diffondere modalità diverse o anche fare in modo che le persone possano anche diciamo scambiarsi perché se ci sono delle emergenze delle cose sanno di che cosa si sta parlando per esempio nell'altro value stream queste sono è uno dei tipi di team o di crew come vengono chiamati in unfix le altre sono queste qua le metto qui quindi c'è la parte di value stream che è il team principale la parte di facilitazione che tipicamente ha questo tipo di anzi ve li faccio vedere da qua che è più facile dove sono il classico esempio potrebbe essere quello degli agile coach o degli scrum master insomma eccetera sono persone che tendono a dare un supporto ai vari value stream e quindi diciamo possono essere diciamo cross rispetto ai diversi value stream questo invece è quello che ha a che fare con con le competenze specifiche quindi ho gli esperti insomma quelli che forniscono competenza specifica quando serve rispetto ai value stream dove stanno lavorando la la parte di platform che invece va a fornire servizi o prodotti o altro a tutti gli altri e quindi è un una parte di servizio e quindi può essere l'infrastruttura può essere diciamo la parte di comunicazione insomma o anche se stiamo parlando di software parti che sono comuni a tutti gli altri prodotti che sviluppa questa l'azienda e poi ho queste altre due che sono quelle verso la parte diciamo da un lato e dall'altro che diciamo guarda verso l'esterno dell'azienda cioè la parte di experience crew e quindi quella che si può quella che si occupa della customer experience quindi lato cliente a valle diciamo e l'altra parte invece che si occupa delle partnership cioè tutto quello che a me che serve che venga diciamo considerato molto più vicino all'azienda rispetto a un fornitore qualunque e quindi possono essere freelance diciamo altri collaboratori altre aziende che collaborano e partecipano diciamo in maniera importante rispetto diciamo allo sviluppo del prodotto l'altra le altre cose che non vi ho che non ho messo qui sono quelli che vengono chiamati i forum che vedete sono vediamo se se ne vede uno eccoli qua sono questi qua questo disegno qui questa è la parte è il forum tecnologico e questo invece di struttura che sono diciamo un po' il modo con cui Unfix suggerisce di risolvere il tema appunto della cross fertilization del fatto che tra i vari value stream ci si debba parlare appunto per diffondere modalità e modi di fare l'unità principale di Unfix è quella che viene chiamata base che è tutta questa parte qua e posso avere diversi tipi a secondo della di come io mi decido di creare o di suddividere l'azienda ammesso che queste siano parti di aziende perché potrebbe essere anche tutta l'azienda se è piccola quindi posso avere quella che è diciamo integrata completamente e quindi tutto quello che serve è qua dentro quella che è allineata quindi c'è allineamento tra tutte queste parti e quella che invece non ha particolari diciamo necessità di allineamento e quindi vedete che ci sono diversi value stream uno diciamo sopra l'altro nel senso che alla fine ognuno di quei blocchi si preoccupa del suo prodotto e non ha necessità di avere allineamento con gli altri e invece quella che dove c'è una certa segregazione cioè dove sostanzialmente ogni value stream è magari a diversi livelli di maturità del prodotto e quindi in alcuni casi non è diciamo consentito che alcune informazioni escano verso anche il resto dell'azienda non verso l'esterno qui si parla sempre della stessa azienda e questa è un'altra diciamo modalità o un altro diciamo aspetto che viene preso in considerazione per definire poi quale sarà il mio modello da un punto di vista grafico quello che succede è che io disegno queste che sono una base a secondo di come mi serve quindi di quello che ci devo mettere quindi qui ho le varie tipologie di crew o di team non c'era qui scusate mi sono perso quella della governance che è qua e questa qua in altro scusate nella descrizione lì non c'era che è la governance crew che si occupa appunto della parte di governance dell'azienda e quindi della mission dell'allineamento complessivo e anche della definizione degli obiettivi di business insomma eccetera quindi poi i nomi sono abbastanza diciamo esplicativi tendenzialmente ok c'è qualche domanda mi piacerebbe poi fare un po' più di scambio adesso fondamentalmente i concetti questi se non vi faccio vedere tutte le card perché secondo me non ha senso peraltro se andate su unfix trovate quasi tutto praticamente perché è tutto open io una domanda sì prima di dire le reazioni diciamo giusto per chiarire hai detto scelgo diciamo un assetto e poi lo implemento c'è un processo anche all'interno di unfix per rivederlo nel senso la governance crew è eventualmente anche responsabile di dire ok abbiamo provato a fare a seguire l'approccio segregato non ha funzionato cambiamo approccio è lì che avviene la sede di questo tipo di decisione oppure oppure no perché questo è uno dei problemi delle pratiche agile in generale cioè non decidono come adottare se sono opportune per quel contesto lo decide il consulente che le forza allora non c'è uno step definito in questi termini si può sicuramente immaginarlo e secondo me avrebbe molto senso nel senso che ancora diciamo la parte di modello dal mio punto di vista manca un po' delle interazioni che ci sono tra le varie crew cioè per esempio non c'è e non c'è nessuna rappresentazione al momento se per esempio i value stream hanno una dipendenza dalla governance cioè che sia anche diciamo strettamente evidenziata insomma non solo in termini di vision di mission eccetera e questa è una delle cose che su cui si sta lavorando quindi e anche definire che cosa realmente fanno le varie le varie crew cioè nel senso la governance crew in alcuni casi può occuparsi di rivedere il modello quindi capire se quello che è stato messo in atto sta funzionando oppure lo si potrebbe assegnare a un forum o qualche altra cosa definendo poi che la decisione va presa non si entra in questo dettaglio ma sicuramente sono aspetti che andrebbero definiti probabilmente lo si può legare al tipo di maturità che ho rispetto alla mia azienda che è questa parte qui lo stage in cui mi trovo che è questo qua quindi initiation expedition formation validation eccetera e quindi quando se definisco che sono per esempio nella fase 4 sicuramente devo mettere in atto delle modalità con cui validare il modello che sto applicando sia che sia il modello di business ma anche il modello organizzativo secondo me e quindi questo può sicuramente aiutarci non so se ti ho risposto Andrea chiarissimo ti farei un'altra domanda di chiarimento che è questa la proposta che il modello fa a chi eventualmente è interessato a fruirne adesso non voglio entrare nei segreti diciamo ma il modello mi dà è una visione interpretativa della realtà oppure all'interno di tutte queste cose dice ok poi il value stream li devi fare così se vuoi che funzionino ok era giusto per capire la value proposition del modello ok una sorta di chiave interpretativa che fa un po' da bridging tra le pratiche agile e invece la vista organizzativa perché ho visto un mashup di varie cose c'è dentro un po' di Spotify c'è dentro un po' di business model canvas e c'è dentro un po' di team topologies molto team topologies sì è vero sì 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 il modello l'ho visto dove è esplicitato gli aspetti delle partnership e un po' di Spotify l'ho visto in quella versione trasversale dei forum del guardare quella cosa quindi diciamo è interessante secondo me è uno sforzo interessante di mettere insieme queste cose ai vari loro livelli di attrazione sì in termini di proposta allora prima di tutto è tutto è tutto open quindi diciamo chiunque può andare scaricarsi le card fare tutta una serie di cose in totale autonomia quindi c'è questo aspetto che Jürgen ha definito così a questo giro e l'altra dal mio punto di vista questo è uno strumento che ti aiuta se sei un'azienda nel capire che cosa come ti vuoi organizzare se sei un consulente nel suggerire o dare la possibilità al tuo cliente di co-creare la soluzione ma realmente proprio mettendogli in atto dei workshop dove gli dici ok adesso dobbiamo decidere se usiamo una base una base diciamo completamente segregata se completamente segregata se per noi ha senso che tutti i value stream si parlino perché anche se fanno cose diverse ci deve essere una certa diciamo uniformità tra le cose che vengono prodotte e via di sé Jürgen faceva l'esempio della non so quale banca straniera quindi ci interessa poco ma dove diciamo il tema era mi registro e mentre faccio la mia registrazione e devo cambiare la password sul sito devo utilizzare la app vado vado sull'app mi dice se non ti sei registrato non puoi usare l'app io sono in questa situazione con le poste quindi diciamo non è non è così distante no diciamo bloccato da un anno vabbè non sto prendendo in mano la situazione ma non riesco ad avere diciamo i servizi online agganciati al mio utente non è possibile prima diciamo che dovevo avere la tessera eccetera poi insomma quindi alla fine diciamo ci sono questi buchi perché chi si occupa della parte online tipicamente non si interessa di chi si sta occupando dell'app men che meno di chi è in filiale se parliamo di banche quindi questo tipo di diciamo separazione o integrazione è una cosa che posso diciamo stimolare il cliente a prendere in considerazione questo aspetto prendere una decisione e e questo approccio mi aiuta non vi nascondo che c'è un aspetto diciamo secondo me diciamo sul quale fare attenzione che siccome non ho niente di pre compilato prestabilito sicuramente posso potrei generare una grandissima confusione perché il fatto di prendere un frame così com'è mi solleva da due cose fondamentalmente uno dalla dalla fatica di dover scegliere e di dover diciamo occuparmi di tutte queste dimensioni perché poi io ti dico ok ma vuoi la base come la vuoi quante crew vuoi che tipo di team vuoi che tipo di modalità di decisione vuoi prendere vuoi impostare che tipo di delega ovvio che posso anche dirgliene di meno però tendenzialmente sono tutte cose che vanno definite e questo è un tema che magari insomma il cliente dice ma io volevo fare diciamo prendere un team fargli fare scrum ma ero contento uguale adesso estremizzo l'altra cosa è che ovviamente mi sto diciamo appropriando della responsabilità anche del risultato perché a fine sto decidendo io come cliente quindi come azienda che tipo di struttura voglio magari aiutato insomma però di fatto non posso dire beh cavolo ho preso safe ho pagato un sacco di soldi e non funziona ma le dico safe la società di consulenza che me l'ha fatto implementare e cambio e prenderò un'altra cosa l'ES magari insomma o altre cose così no così dovrei dire ok ho fatto delle scelte vanno sistemate e quindi prendere l'aspetto positivo di questo processo oppure magari se l'azienda non è abituata avere un po' di timore nel questo tipo di nell'avere questo approccio no questo è una cosa che va sperimentata io sto iniziando un po' a provare a parlarne con clienti e prospect e sicuramente questo aspetto c'è un po' quindi lo metto sul tavolo per per i pericolleri o per chi ragiona da un punto di vista aziendale su su questo insomma qualche altra domanda non ero incuriosito da forum nel senso che se ho capito bene forum è il luogo la parte del modello che si occupa della circolarità della dell'informazione della conoscenza dentro a questo frame ho capito bene in alcuni casi può essere semplicemente di mettere a fattore comune la conoscenza in altri anche di fornire magari linee guida per esempio sul forum tecnologico potrebbe esserci potrebbe essere necessario o utile là dentro definire quali sono diciamo gli approcci di sviluppo che devono usare i vari value stream o che tipo di architettura magari impostare quindi non in termini di platform dove io ti fornisco l'architettura quindi lì ti sto fornendo un servizio o un ulteriore pezzo di prodotto ma in termini di magari appunto linee guida modalità e anche diffusione della conoscenza quindi ci possono essere questi più aspetti però il concetto è quello sono le gilde di Spotify Spotify diciamo adesso interrompo la registrazione però sì è quello la domanda era sembrano le gilde stavo bene è così ma da quel punto di vista se guardate nei vari materiali che trovate sul sito trovate i riferimenti diciamo da dove arrivano queste varie cose anche su i valori insomma su tutto sono stati presi da diverse cose sono state un po' diciamo selezionate e quindi c'è assolutamente trasparenza in topology c'è in tutte le presentazioni c'è la copertina del libro insomma ok qualche altra domanda in quittano 140 carte però le giletano un'occhiata e sì non so sono tutte queste no per esempio se prendi la parte dei diciamo di motivazionale sono tante no però molte sono 5 6 7 card a 7 quindi con tutti i set che ci sono diciamo già in manager 3.0 ce n'erano un po' insomma qui come dire si è si è divertito commettiamo però alcune sono sono estremamente interessanti secondo me devo dire quelle del team della tipologia di team e anche del livello di partecipazione non abbiamo parlato però è quello dove io definisco anche io che tipo di partecipazione ho in quel team e che tipo di diciamo coinvolgimento ho nel nel prendere decisioni rispetto a quel team perché potrei partecipare perché sono uno SME un esperto e quindi andare lì una volta a settimana perché devo guardare le robe di UX per esempio ma non decido nulla della vita del team cioè non partecipo alle decisioni della vita del team do il mio contributo specifico in termini di contenuto ma se c'è una cosa che deve decidere il team che non è contenuto io non partecipo perché non ha otto senso e quindi anche questo aiuta nella relazione secondo me nella nella definizione stai dicendo che le carte potrebbero essere usate al di fuori di questo modello adesso mi hai incuriosito vado a vederlo per esempio questa cosa della partecipazione è un tasto che in questo momento sto affrontando cliente non conosco questo modello però vado a dargli un'occhiata per vedere se mi posso aiutare sì potrebbe essere assolutamente sì l'approccio che ha sempre usato Jürgen per esempio la parte di delegation poker quello famoso che tutti abbiamo rubato abbiamo rubato di manager 8.0 cioè tu lo puoi usare a prescindere da manager 8.0 ma manager 8.0 è la stessa cosa è un set di strumenti che ti possono aiutare ad avere un approccio manageriale diverso rispetto a quello classico insomma quindi è la stessa cosa anche qui hai tanti set di card anche quelli passati il vortex la parte di delegation insomma eccetera più altre cose che prendono in considerazione la parte strutturale che invece manager 8.0 prendeva in considerazione molto poco però puoi usare quello che ti serve anche solo quello dei team sì sì assolutamente magari pensare ad hackerarlo cioè nel senso di prendere quella cosa lì e inserirlo dentro i propri modelli magari queste cose interessate assolutamente assolutamente ok noi siamo nei tempi precisi io non voglio essere l'ostacolo al vostro pranzo però se c'è qualche altra domanda mi fermo volentieri grazie mi hai attivato un po' di curiosità andrò a vedere oggi sicuramente va bene anche io Emanuele vorrei ringrattarti per l'ospitata e soprattutto da domani si inizia a studiare Unfix bene va bene quando volete ci sentiamo volentieri io sono più che disponibile se andate sul sito trovate anche poi i vari diciamo appuntamenti che sono aperti a tutti che ce n'è uno al mese di questi quindi sicuramente può essere utile partecipare insomma per chiunque anche pensare dei meetup con usi specifici delle carte certo sì 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 roba breve potremmo applicarlo così anche interessante no no quelli ci sono cioè noi ne facciamo alcuni oggi infatti ne ho messo un po' di card però ho detto vediamo come va la chiacchierata insomma sicuramente si può si può poi proseguire con questa cosa magari facendo un'attività su una card piuttosto che su un set di card piuttosto che un'altra ok anzi volentieri va bene allora buona giornata a tutti grazie mille ciao grazie ciao a tutti